ultimi passi per ora in cima al resegone ci lasciamo le spalle al rifugio azzoni con un po di fiatone facciamo gli ultimi gradini e arriviamo in vetta qui c'è la grande croce che domina l'ecco e il lago ecco in fondo tra la foschia l'ecco i piani d'erna e tutte le careste delle tutte le cime del resegone riveliamo la croce di fronte con l'altare in cui l'altare benedetto dal cardinal martini anche queste